Controllo straordinario del territorio. I carabinieri della compagnia di Caltagirone su disposizione del comando provinciale di Catania e in ottemperanza le direttive imposte dalla prefettura di Catania, nell'arco degli ultimi giorni hanno attuato una pressante azione di contrasto alla microcriminalità. Il tutto mediante la dislocazione di posti di controllo, fizi e mobili. I servizi coordinati dal comandante della compagnia, il capitano Giorgia Deacutis, si sono avvalsi dell'attività di supporto dei carabinieri del XII Regimento Sicilia. I militari hanno potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare riferimento alla guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, all'uso e allo spaccio delle stesse, oltre alle violazioni del codice della strada e alle altre condotte illecite che pregiudicano la sicurezza. Sono state controllate 21 autovetture e 36 persone, nonché elevate 12 sanzioni per violazioni al codice della strada, il tutto per un importo complessivo di circa 8 mila euro. I carabinieri hanno fermato alla guida di una vettura un 51enne che è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 645 euro in contanti, cui deteneva all'interno del portafoglio, nonché un coltello serramanico all'interno dell'abitacolo. Alla presunta attività di spaccio i controlli sono stati estesi nella sua abitazione laddove, accultata all'interno di un cassetto, è stata ritrovata una pistola calibro 8 detenuta illegalmente. Pistola, denari stupefacenti sono stati sequestrati e l'uomo è stato associato al carcere di Caltagirone in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP. Servizi che si erano resi indispensabili per venire incontro alle legittime attese della popolazione che nel corso degli ultimi mesi ha più volte lamentato una sorta di allarme sociale. I carabinieri hanno controllato le persone sottoposte a varie misure restrittive imposte dalla magistratura, nonché attuato mirati servizi di prevenzione in prossimità di locali pubblici e luoghi di ritrovo, ai fini di prevenire eventuali fenomeni di microcriminalità. Un'attività, insomma, intense, attuata sia nelle ore di urne sia la notte e in alcuni giorni in collaborazione con i militari della Compagnia della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.